In poche ore intorno al Vicenza calcio è successo di tutto. Alfredo Pastorelli annuncia su Facebook che lascia, poi ci ripensa e si scusa coi tifosi. Variati ammonisce tutti e chiama a raccolta chi può salvare la squadra. Ha passato la notte alla Caritas di Vicenza. La persona scomparsa a Bari è segnalata da chi l'ha visto. Si cerca intanto un giovane sparito da Chiampo. Due quattordicenni beccati a rubare vodka al supermercato a Vicenza. Bari e negozi nel mirino di altri ladri. Piccoli crolli e infiltrazioni flagellano il museo di Santa Corona. Archiviato un progetto di espansione. I camper di nomadi spariti da via Periz sono ora nel parcheggio di via Lanza. Si spostano le proteste. A tiene un 17enne di origine marocchina e l'autore della rapina ad anni di un ragazzino 14enne. Studente della media Ferrari.